L'Asi chiede un incontro con i vertici della Treofan. Ad avanzare la richiesta il presidente Antonio Visconti. Vogliamo illustrare le prospettive della zona industriale di Battipaglia, afferma Visconti, inserite in importanti e strategici interventi di programmazione, dalla ZES al rilancio dell'Interporto, alle nuove prospettive logistiche e di integrazione con i sistemi produttivi regionali. Un quadro che il presidente Asi giudica difficilmente ritrovabile in altri contesti. E' nostro dovere rappresentare al meglio la nuova proprietà alle condizioni attuali. Nei giorni scorsi anche la Giunta ha preso posizione sulla questione, dando mandato alla Sindaca di seguire la vicenda in stretta relazione con lavoratori e sindacati, concordando con essi forme di lotta e tutela dell'occupazione.